Buongiorno, eccoci, lo vedete il cantiere già all'opera di questo nuovo edificio in costruzione, edificio che fa parte del campus biomedico di Roma. Qui si formeranno i medici, gli infermieri, il personale sanitario del futuro. Ed è una data simbolica, questa è importante, perché da qui si riparte, si ricostruisce e soprattutto si investe nella sanità. La pandemia ci ha insegnato l'importanza di investire nella sanità, nella salute, nel benessere della persona. Qui al campus biomedico abbiamo con noi il presidente dell'università campus biomedico, Felice Barella, una data importante per voi, ma è una data anche simbolica. Qui si formeranno i medici del futuro. Sì, effettivamente, la graduale crescita dell'università campus biomedico richiede più spazi, però qui non sono soltanto metri quadri in più che sono necessari, ma è un progetto strategico per noi, perché adesso con la pandemia in maniera particolare si vede la necessità di formare operatori sanitari, quindi medici, infermieri, tecnici, ingegneri biomedici, che possano dare un importante contributo a risollevarsi in questo momento storico particolare dalla pandemia. Ma non soltanto, perché questo edificio avrà delle caratteristiche speciali dal punto di vista della sostenibilità energetica, ambientale. Qui siamo nella riserva, al confine della riserva di Decima Malafede, quindi una zona di pregio dal punto di vista naturalistico, e il campus biomedico ha sempre avuto una particolare attenzione per questo campo. Quindi pensiamo di poter incanalare veramente anche tutte le energie che i giovani in particolare manifestano per poter lasciare un pianeta migliore di quello che hanno trovato. Ecco, questi sono i due principi cardine da cui si riparte, la tutela dell'ambiente e l'attenzione per la salute. Esattamente, c'è una grandissima coincidenza tra quello che è stato il nostro piano strategico e i cardini del PNRR. Si parla di formazione, si parla di ricerca, si parla di salute, si parla di superamento delle disuguaglianze. Sono tutte cose sulle quali stiamo lavorando ogni giorno, proprio per il nostro pane quotidiano.